Cosa paghereste questa macchina se fosse una rinomata tedesca? 70.000 euro? 80.000 euro? 100.000 euro? E invece di listino sono 50.000. Un SUV del segmento premium con cambio automatico, interni in pelle, fari xeno, fari a led, Kailes Go, Kailes Entry, sedili riscaldabili, volante riscaldabili, clima digitale bizona, tutto. Venta ad un concorso a premi e subito venduta per monetizzare. Che culo, eh? Per voi ad un prezzo oltre 10.000 euro sotto il listino. Un'occasione unica perché non è un usato. Questa è una Km Zero ma è nuova.